Nella puntata di ieri 6 febbraio 2020 del Festival di Sanremo, condotto vi ricordo dal buon Amadeus, vi ricordo che è apparso, si è palesato il buon Roberto Begni, il quale è entrato all'interno del Teatro Ariston, il teatro più famoso d'Italia probabilmente, con una band, con un gruppo musicale. E' stato ovviamente acclamato questo straordinario e leggendario attore e regista italiano, famoso perché recitò il film La vita è bella e per altre opere di straordinaria bellezza. E dopo essere entrato ha fatto ovviamente il suo spettacolo andando a mandare, secondo il mio punto di vista, secondo la mia opinione, una frecciatina a Matteo Salvini, per quanto riguarda la azione che, vi ricordo, poco tempo fa ha compiuto, ossia quella di andare a citofonare ad un tunisino. E' stata un'esibizione piacevole, una performance molto bella, quella di Roberto Benigni, di cui però non vi posso aggiungere eventuali ulteriori dettagli, anche perché altrimenti vi togliereste la voglia di andarla a vedere, va bene? Detto ciò vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto. Iscrivetevi, commentate e al prossimo video da Leandro, il narratore italiano.